E' visibilmente arrabbiato per le numerose persone in strada il governatore Vincenzo De Luca. Un video del mattino mostra il presidente della regione Campania insieme a due collaboratori fermo a piazza della Concordia Salerno. Nel video De Luca si mostra nervoso per le troppe persone che continuano a circolare in strada nonostante le importanti restrizioni previste per limitare la diffusione del Covid-19. E' chiaro quello che dice De Luca con i suoi collaboratori, i suoi gesti con le mani sono eloquenti, dove vanno tutte queste persone. L'ex sindaco di Salerno torna per qualche istante a ricoprire il ruolo da sceriffo come è stato spesso apostofrato in passato. In realtà ora più che mai c'è bisogno del pugno fermo, soprattutto con quei cittadini che davvero non hanno capito l'importanza di rimanere a casa e ridurre al minimo le uscite. Sono diversi i primi cittadini che già nei giorni scorsi personalmente sono andati a verificare in strada il comportamento dei loro concittadini. Ed in molti casi, come ha testimoniato la cronaca in questi giorni, in tanti hanno preferito violare le prescrizioni per motivi davvero futili.